Ultimamente si sente parlare sempre di più dei metaversi, ma che cos'è esattamente un metaverso? E noi che siamo anche cripto investitori e quindi siamo particolarmente legati a questo concetto in quanto nel mondo cripto ci sono diversi progetti legati proprio ai metaversi. Inoltre per il tema della tokenizzazione, quindi del poter di fatto possedere su una blockchain un registro distribuito, degli item, delle terre, degli oggetti anche in questi metaversi insomma possiamo dire che il metaverso vero, quindi come dovrebbe essere con tanto di proprietà nasce proprio sulla blockchain, sulle cripto e quindi noi ci chiediamo quali sono i progetti migliori in questo settore che vale la pena tenere sotto controllo perché ormai una cosa l'abbiamo capita, sarà un trend. Queste due domande troveranno risposta in questo video. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Dopo che il nostro amico o nemico che dir si voglia Mark Zuckerberg ha deciso di cambiare nome a Facebook, che è una delle piattaforme di social network nonché aziende più grandi al mondo in meta, ha proprio voluto mandare un messaggio molto forte, ovvero io credo tantissimo nel futuro che va in questa direzione. Quindi il social network, per rispondere alla domanda che cos'è un metaverso, il social network che prima era soltanto tra virgolette una piattaforma online dove condividere, comunicare con altre persone, fa uno step avanti e diventa un metaverso, diventa un intero mondo virtuale. Il metaverso può essere inteso come realtà aumentata, realtà virtuale, quindi tutto ciò che è online e prevede nell'online, in un mondo online, interazione, proprietà, conoscenza, tutto quello che al momento si fa offline, quindi è una trasposizione della vita o di parte di essa online, che è un tema che, vuoi è un bene, vuoi è un male, stiamo vedendo da un po' di tempo. I social network sono stati un po' il primo passo in questa direzione, se vogliamo, perché di fatto, insomma, hanno portato online buona parte delle interazioni sociali. In primis, ripeto, la conoscenza, la comunicazione, nonché la condivisione di momenti, foto, sotto forma appunto di media di vario tipo. Che cos'è che manca, quindi? Per fare un passo ulteriormente più lungo, manca quello che può essere avere un avatar online che diventa la trasposizione di se stessi, di fatto, in un mondo virtuale. Manca l'aver un sistema appunto di proprietà, un'economia, che è trasposta dall'offline anch'essa all'online, in questo mondo virtuale. E quindi questo significa poter possedere terreni, edifici, oggetti, animali, qualsiasi cosa online in questi metaversi. A molti sembra assurdo, per molti altri invece, e io lo credo per primo, il cosiddetto real estate, che non di me mi fa ridere perché non diventa più real, diventa una sorta di virtual estate, se vogliamo trovargli a tutti i costi un nome, penso che sarà un mercato destinato a crescere veramente tanto. E questo si lega un po' a doppio cappio, se vogliamo, al mondo proprio delle cripto. Perché? Conoscete un modo migliore per certificare proprietà, unicità e autenticità di un asset rispetto ad un NFT? La risposta, a mio parere, è no. E questo ci porta proprio da cripto investitori e da cripto conoscenti, quindi che sappiamo come funziona questa tecnologia, a capire l'importanza del settore blockchain e cripto in un tema come quello dei metaversi. Realtà aumentata vuol dire semplicemente avere il mondo reale con qualcosa di aggiunto. Ci sono progetti come OVR, molto interessanti, che puntano proprio su questo. Nel mondo off-chain, anche lì ci sono tantissimi progetti che magari vuoi per far pubblicità un'attività, vuoi per turismo, vuoi per gamification, puntano a farti camminare, muovere nel mondo reale, magari con un visore o uno smartphone, farti interagire in un modo che offline non potresti, con oggetti, aree, edifici e quant'altro. Un esempio è Pokémon GO, che probabilmente tutti conosciamo. Quella è realtà aumentata perché ci muoviamo nel mondo reale e di fatto siamo nel mondo reale, ma magari appunto troviamo i Pokémon e interagiamo con essi in vario modo. Invece la realtà virtuale significa uscire completamente dal mondo reale, non averci più nulla a che fare ed essere catapultati in un mondo completamente virtuale. Si può immaginarselo questo processo come seduti al PC, seduti nella propria postazione con un visore, oppure magari facendo uno step ulteriore andando verso un po' la fantascienza forse, muovendosi su qualche piattaforma come nel film Ready Player One, così da simulare addirittura il movimento camminando, ma di fatto non ha nulla a che vedere con il mondo reale. Esistono già... il primo è stato Second Life, che probabilmente molti di voi conoscono, vuoi perché ci hanno interagito, vuoi perché ne hanno sentito parlare, ed è stato un esperimento molto interessante, perché ha dimostrato che già, si parla di dieci anni fa, pensate, già un concept di questo tipo attirava veramente tanto. Immaginatevelo adesso, dove siamo già stati abituati, ancora di più in questo periodo di lockdown degli ultimi due anni, siamo stati abituati a portare online la nostra vita, molto di più. Molte attività, la lettura dei giornali, l'interazione sociale, sono sempre più portate online e questo, ripeto, è un trend. Adesso il terreno è estremamente fertile per il lancio di questi metaversi e quindi sono certo, non ho proprio dubbi, sul fatto che diventerà veramente un trend importante. Lato cripto, quindi, si tratta di andare a identificare quei potenziali progetti che hanno un loro perché, e non sono banalmente il classico, sa, c'è un trend di un certo tipo, facciamo qualcosa anche noi, ma progetti che hanno investimenti importanti, che hanno applicazioni concrete e che soprattutto si muovono nella maniera corretta. E questo è l'obiettivo della seconda parte, ovvero questa, del video di oggi. Quindi andiamo a vedere quei tre più due, tre perché sono già affermati, due perché sono un attimino più indietro, se vogliamo, nello sviluppo, ma vale la pena magari tenerli sotto controllo, lo stesso, a scopo chiaramente di studio. Prima di andare a vedere questi cinque progetti, io vi chiedo cosa ne pensate del trend dei metaversi. Vi spaventa? Vi interessa? Credete che sarà un trend? Credete che sarà una bolla? Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Adesso andiamo a vedere i cinque progetti più interessanti. Il primo è Decentraland, primo se non ricordo male anche in ordine cronologico ad essere stato sviluppato. È un progetto che nasce su Ethereum e poi è passato ai layer 2, per adesso se non erro è esclusivamente su Polygon. Come funziona? Il concetto è molto semplice. Abbiamo un mondo virtuale suddiviso in land, in terre. Immaginatevi una grande griglia suddivisa in quadratini e ognuno di questi quadratini come vedete è una terra. In base alla posizione della terra, la mappa è veramente grande, il prezzo varia. In particolare se molte terre sono utilizzate, magari utilizzate da persone o brand influenti, utilizzate per coinvolgere il pubblico, vengono creati dei giochi, vengono create insomma qualsiasi tipo di interazione che la fa diventare interessante, che fa venire voglia a utenti di avvicinarsi ad essa e utilizzarla, chiaramente fa incrementare il valore di tutta l'area, perché possedere una terra nell'area circostante significa avere un po' di luce riflessa che arriva esattamente da lì. Cosa ci si può fare con una terra? Ci si può fare veramente tante cose. Ci si può sviluppare dei giochi, c'è un motore fatto apposta per sviluppare in maniera abbastanza semplice, non serve essere sviluppatori né saper scrivere codice in sostanza. Ci si può tenere banalmente degli eventi, esempio l'ultimo evento di Cosmos a cui sono stato poco fa, è stato anche tenuto online in una land, non su The Central Land, su un altro metaverso che chiaramente è su Cosmos, ma in sostanza si poteva andare lì con i propri avatar, interagire insomma tra uno e l'altro oppure guardare su una sorta di maxischermo virtuale l'evento stesso. Questa è diciamo la base. La cosa che dà un'esperienza superiore rispetto al banale guardare il video in streaming per dire è proprio la presenza di altri avatar con cui si può parlare, con cui si può interagire in vari modi, anche iniziare magari qualche minigioco e cose di questo tipo. Guardate, vi faccio vedere l'esperienza diretta che forse ha meglio di mille parole. Quando si entra nella mappa, io ho creato un avatar random adesso, quando si entra nella mappa della Genesis Plaza, che è il punto di default dove i nuovi utenti vengono catapultati, vedete che si può andare a interagire con i vari avatar, si può vedere che cosa possiede, si può vedere alcuni suoi dati e hanno anche proprio una sorta di passaporto virtuale se hanno fatto cose o, come dire, interagito con certi particolari elementi che permettono poi di ottenere delle abilità, di ottenere qualche tratto distintivo. Poi qua vedete si può andare a, come dire, interagire con l'ambiente circostante e catapultarsi anche in altre aree. Questo è il punto dove si arriva di default e da qua poi ci si può muovere nella mappa. Come vedete ci sono anche dei giochini che ti fa vedere anche quanti giocatori ci sono, insomma è un mondo veramente immenso. Questo era giusto per farvi un esempio proprio della mappa stessa e poi abbiamo il marketplace dove si può acquistare non solo le terre ma anche oggetti di qualsiasi tipo, quindi oggetti per andare a customizzare il proprio avatar, oggetti da avere magari da lasciare nelle proprie terre, da utilizzare nei giochi che si vanno a creare nelle proprie aree e così via. Chiaramente le land di fatto si possono anche affittare, questo crea una dinamica molto simile a quella del real estate. Una cosa molto molto simile è The Sandbox che è un altro game, un altro, diciamo un altro metaverso di fatto online dove è possibile di nuovo possedere terre, dove è possibile creare giochi, dove è possibile interagire con oggetti e personaggi. Ci sono dei brand molto importanti dietro The Sandbox che partecipano in qualche modo, infatti se andiamo a vedere la mappa, si nota subito che molte aree della mappa sono allocate proprio a dei brand particolarmente noti. La mappa è gigantesca, qua già spicca The Walking Dead, spicca Binance, insomma abbiamo dei brand di tutto rispetto. Non a caso The Sandbox è quel metaverso che è stato più utilizzato statisticamente e ha ricevuto investimenti importanti, ha ricevuto interazione anche da parte di aziende molto note del gaming. Anche qua ve l'ho detto, la dinamica è molto semplice, abbiamo le land che sono di fatto real estate, abbiamo gli item che anche qua si possono utilizzare all'interno dei giochi e abbiamo poi tutta una serie di item di nuovo per customizzare il nostro avatar. Tutti questi item sono sotto forma di NFT e quindi di fatto noi una volta che li possediamo li possiamo anche cedere, li possiamo anche vendere e se invece li teniamo sono nostri per sempre e possiamo dimostrare in qualsiasi momento che noi li possediamo. ci sono anche una serie di collezioni brandizzate dei vari NFT, dei vari item che dicevamo poco fa e che appunto hanno anche quel tema dell'esclusività che è preso poi direttamente dalla moda se vogliamo, perché è un topic molto affine. In entrambi i casi, sia in The Sandbox che abbiamo visto sono molto affini come dinamica, abbiamo la moneta con cui si acquista questi item e queste terre che nel caso di The Sandbox è MANA, nel caso di The Sandbox è SEND, quindi queste sono le monete di scambio interne al metaverso. Ci sono due metodi per investire nel metaverso stesso, uno è detenere per l'appunto questa moneta pensando che se la domanda per gli item aumenta, chiaramente gli utenti devono acquistare prima i SEND e poi impegnarli nel marketplace e di conseguenza il prezzo di SEND dovrebbe aumentare a causa dell'incremento di domanda. Il secondo modo è proprio il possè che è quello che preferisco, sinceramente, infatti io personalmente detengo alcune terre, alcuni item, magari poi vi dico anche quali, all'interno di alcuni metaversi vi dico già che detengo alcune land in The Sandbox, alcune land in The Central Land proprio perché uno dice, beh, sono... è come... immaginatevi un real estate di fatto, no? Quando voi dite, bene, io acquisto una proprietà, una terra, una casa, un real estate da qualche parte perché secondo me aumenterà di valore a causa dell'incremento della domanda di una particolare area di una città o di una città stessa oppure di una zona, se magari si investe sull'estero qui è un po' la stessa cosa, con la differenza che è un mercato ancora talmente piccolo che potrebbe premiare ancora di più il cosiddetto holding a lungo termine perché adesso pensate che è una nicchia nella nicchia, cioè abbiamo le crypto che già sono una nicchia e il real estate al suo interno che è la nicchia nella nicchia credo che siamo in pochi, no? A capire di cosa stiamo parlando se ne parliamo fuori ci danno dei pazzi ma probabilmente tra non molto non sarà più così adesso che ne parla Facebook, ok? Non stiamo parlando di uno sconosciuto questo sicuramente accenderà tantissimo l'interesse e di conseguenza se così fosse e se l'interesse dovesse aumentare e la domanda con esso i prezzi degli asset nei metaversi avrebbero notevolmente un aumento di prezzo conseguente poi il terzo progetto, sempre dei big, è Axie Infinity Axie Infinity è più verso il gaming che il metaverso ma sono due temi estremamente affini, l'avrete capito alla fine i primi purpose, i primi scopi di The Sandbox e di The Sandralend è proprio costruirci dei giochini perché così gli avatar arrivano interagiscono, si divertono, magari c'è anche qualche piccolo premio per incentivare e questa è un po' la dinamica di base poi credo che scopriremo col tempo tutta un'altra serie di utilizzi che ci si può fare Axie Infinity nasce proprio come gioco, ok? Di default la versione di partenza non aveva neanche Le Land aveva soltanto il combattimento tra gli Axie che sono queste creaturine simili ai Pokémon, se vogliamo che hanno una serie di caratteristiche immaginatevi che voi potete acquistare sul marketplace gli Axie stessi acquistando quello che volete voi in base alle caratteristiche che ha chiaramente caratteristiche che uno che li guarda e non conosce il gioco non ci capisce niente ma se uno lo conosce sa bene come muoversi perché di fatto si combatte poi con delle squadre di tre e ci vuole, c'è tutta una componente anche di strategia e di tecnica quindi uno li va a cercare, li acquista in base alla necessità che ha chiaramente domande offerte, poi fanno il prezzo quindi quelli più forti sono quelli anche con un prezzo maggiorato e li si può fare accoppiare tra di loro per fare quello che si chiama breeding ovvero farli figliare, è esattamente quello che accade ovvero vanno a creare un uovo che poi si fa schiudere dal quale nasce un altro Axie con caratteristiche ereditate con un algoritmo, ci sono poi tutta una serie di simulatori online e quant'altro oltre agli Axie stessi ci sono anche degli oggetti che adesso, eccoli qua, items che si possono acquistare, che hanno degli effetti diciamo su alcuni Axie poi non conosco benissimo, a dire la verità, tutte le dinamiche del gioco perché è veramente, veramente diventato molto più complesso di quando è nato io possiedo qualche Axie che avevo acquistato al tempo e ho intenzione assolutamente di holdarli a lungo e per quanto riguarda le land vedete, anche qua abbiamo una dinamica molto simile abbiamo una mappa con delle aree che vanno anche qua a influenzare le statistiche degli Axie quindi in base a dove ci si trova vedete, abbiamo delle aree di acqua delle aree con erba delle aree più aride e così via e in base a dove ci si trova in combattimento cambia un po' la situazione il possedere le terre poi dà diritto a tutta un'altra serie di benefici che, a dire la verità, non ho neanche chiarissimi dovremmo fare magari un video aggiornato su ognuna di queste piattaforme di questi metaversi il motivo per cui lo trovo così interessante è il volume di utenti in costante crescita è passato al layer 2 running quindi abbattendo le gas fee e comunque è il gioco su blockchain più utilizzato in assoluto e il trend non accenna sicuramente a rallentare il gaming specifico su blockchain credo che sia un altro trend molto importante e questo progetto Axie Infinity mette un po' insieme entrambe le cose quindi il real estate e il gaming e questo lo fa diventare con veramente un enorme enorme potenziale che sono sicuro sfrutterà gli ultimi due progetti sono meno conosciuti per un semplice motivo perché sono un pelo più indietro nel timeline dello sviluppo il primo è Star Atlas e ci spostiamo anche di Chain se finora abbiamo parlato di Ethereum e dintorni quindi Ethereum e layer 2 per ridurre chiaramente le fee altrimenti sono ingiocabili adesso ci spostiamo su Solana Solana vorrà spingere veramente tanto nell'ambito soprattutto del gaming l'hanno annunciato e hanno annunciato già dei round investimenti molto molto importanti Star Atlas è un po' quello che è il prodotto di punta per il momento è quello con più hype è già stato lanciato diciamo sotto forma di teaser nonché dei suoi due token uno dei quali è la DAO che governa un po' questo universo di Star Atlas ma il gioco in sé deve ancora essere sviluppato per la maggior parte tuttavia abbiamo avuto già un'idea cioè sappiamo se si legge la documentazione come funzionerà e la cosa più interessante in questo caso è la possibilità di possedere delle spaceships che sono delle navicelle spaziali che di fatto permettono di muoversi con diverse caratteristiche nelle aree di gioco e le aree di gioco sono caratterizzate da una loro economia quindi risorse presenti in alcune zone che diventano di conseguenza più interessanti e più appetibili oppure delle aree dove c'è una maggior densità di popolazione ad esempio per vari motivi perché sono più ospitali eccetera quindi tutta una serie di caratteristiche proprio tipiche di un metaverso un metaverso in questo caso a tema fantascientifico e spaziale più orientato al gaming stesso però ripeto con una componente economica al momento gli asset a disposizione ve l'ho detto il gioco è ancora molto da scoprire sono le spaceships nonché le monete Atlas e Polis dove Atlas è la moneta di scambio e Polis invece è la moneta che dà potere è la coin, il token che dà potere sulla governance quindi potere decisionale anche qua si ha il proprio avatar si sceglie la razza si interagisce appunto in vario modo con gli altri avatar le navicelle, le altre navicelle, le aree si costruisce in certe aree quindi il tema è sempre questo ma con un sapore più fantascientifico l'ultimo invece che è ancora se vogliamo ancora più indietro è Infinity barra Engine che sono diciamo due facce della stessa medaglia perché Infinity è un progetto su Polkadot in questo caso che punta a diventare anche una parachain e è sviluppato dal team di Engine ve lo cito perché Engine non è che sia proprio l'ultimo arrivato lato gaming Engine Coin è stato un ICO che è uscito tempo fa su Ethereum ma di fatto ha fatto molta strada con partnership e quant'altro con player veramente notevoli del settore del gaming e infatti si è imposto come uno dei progetti leader e adesso vuole estendersi al mondo dei metaversi utilizzando in particolare Polkadot che è un ecosistema molto in espansione quindi potrebbe valer la pena tenere un occhio puntato anche lì non è l'unico progetto metaversi su Polkadot perché abbiamo visto che c'è anche Bit.Country che è un altro molto interessante magari ne parleremo in futuro l'ho menzionato quando abbiamo parlato delle possibili parachain su Polkadot anche in questo caso vedete è stato stanziato un fondo inizialmente di 100 milioni di dollari proprio per sviluppare metaversi legati in particolare al gaming quindi finora abbiamo visto che i metaversi possono essere esclusivamente pensati per il gaming come Star Atlas come anche Sembra che Infinity voglia fare oppure metaversi tra virgolette misti come Axie Infinity che sì in primis è pensato al gaming in realtà è quasi esclusivamente pensato per il gaming invece abbiamo dei metaversi più dedicati anche alla socializzazione alla condivisione e all'esperienza in generale come The Sandbox e The Central Land personalmente sono quelli che mi piacciono di più The Sandbox e The Central Land proprio per questa ragione ma essendo estremamente sincero io penso che la prima applicazione concreta dei metaversi sarà proprio il giocare bisogna interagire in qualche modo e credo che l'interazione Avatar-Avatar non sia ancora sufficientemente sviluppata dal far venire voglia di utilizzarla ad esempio al posto di un social network ma sicuramente è tutta una storia da scrivere e tutti questi progetti sul settore metaverso vanno assolutamente tenuti d'occhio quantomeno seguiti e studiati esiste anche un indice su Index Coop non so se conoscete la piattaforma dedicato proprio ai metaversi vedete è il Metaverse Index tuttavia non mi fa impazzire perché purtroppo è soltanto su Ethereum contiene soltanto progetti che sono token e RC20 e alcuni di essi sinceramente lasciano secondo me il tempo che trovano quindi a me non piace molto un altro modo invece indiretto per investire nei metaversi è investire in Ethereum Solan o le piattaforme dove vengono costruiti perché come un po' dire non lo so il Metaverse ha costruito su Ethereum quindi ogni transazione va a consumare fee su Ethereum incrementa la domanda di Ethereum e il burn delle fee discorso di questo tipo anche se su layer 2 comunque collateralmente vale lo stesso discorso e quindi questi sono un po' i modi abbiamo fatto un recap molto generico e non volevo andare estremamente nel dettaglio per dare un'infarinatura iniziale sul tema dei metaversi e sul loro legame con le crypto spero che l'abbiate trovato interessante e spero che perché no vi interessi approfondirlo nel caso fatemelo sapere qualsiasi domanda è ben accetta io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima